Buongiorno Dedo, ho capito che un episodio lungo come quello di ieri, mezz'ora non va bene, non lo dovevo più fare, quindi oggi cerchiamo di fare robe un pochino più ristrette e volevo solo dirvi giusto così una breve introduzione che c'è stata molto, insomma si è fatto molto chiacchiericcio online e molte reazioni, molte news, si sono scritti molti articoli a proposito di Apple in questi ultimi giorni ma una roba che si è preso più spazio sono stati i tweet del signor Elon Musk a proposito della partnership tra Apple e OpenAI e il signor Musk ha twittato che adesso i device di Apple non saranno più permessi nei suoi uffici per questioni di privacy perché adesso Apple, ecco, questa roba minaccia la sicurezza e la privacy degli utenti trasferendo i dati degli utenti a OpenAI che vuol dire intanto che non ha capito come funziona il sistema di passaggio dei dati e poi soprattutto al di là del merito delle dichiarazioni che qualunque cosa dica Musk viene ripresa e viene discussa, ci vengono fatti articoli, tra l'altro articoli lunghissimi su due o tre tweet abbastanza banali quindi la storia dei tweet di Musk non ci ha segnato niente, cioè quando lui twitta, twitta qualunque cosa, qualunque cagata gli passi per la testa ma queste cose non hanno poi una corrispondenza nella realtà la maggior parte delle volte cioè twitta scrive delle butad, poi sì qualcuna si realizza ma la maggior parte no cioè non credo che impedirà i suoi dipendenti di avere i device che farà un blocco all'ingresso per chi ha un iPhone e verrà cacciato via insomma questa roba non succederà, è semplicemente una delle tante cazzate che twitta Musk che ha sempre avuto questo stile e magari se smettiamo di riprendere ogni cosa che scrive, ogni scoreggia che fa commentandola come se fosse una mossa di qualcuno che ha preso una grande e importante decisione che influenzerà il mercato ecco forse staremo un po' tutti meglio volevo solo dire questo perché mi ha un po' colpito e oggi parliamo di alcune cose un pochino in velocità tra l'altro c'è un aggiornamento, lo sapevo che la questione Snowflake avrebbe avuto altri aggiornamenti ce l'ho però lo faccio, lo faccio, vi prometto che lo faccio in breve, andiamo ma la notizia di apertura la volevo dedicare a Raspberry, Raspberry Pi che è adesso ufficialmente una public company cioè si è quotata in borsa come dice TechCrunch chi l'avrebbe detto che Raspberry Pi, quello che costruiva quelle piccole board dove i piccoli computer da 30 dollari qualche anno fa sarebbe poi diventata una public company un'azienda quotata eppure è quello che è successo ha fatto la sua IPO, quindi la sua quotazione pubblica al listino London Stock Exchange che è anche peculiare, no? quotarsi a London Stock Exchange di solito le aziende Tech si quotano negli Stati Uniti la borsa di New York, il Nasdaq insomma e invece London Stock Exchange insomma il valore delle azioni era 2 sterline 80 il valore quindi era 542 milioni di sterline o 690 milioni di dollari ci dice naturalmente per i lettori americani e dopo di questo le azioni hanno avuto un incremento del 32% a 3 sterline e 70 quindi Raspberry Pi potrebbe terminare questa sua IPO insomma raccogliendo più di 200 milioni di dollari il listino, dice TechCrunch, è anche una vittoria per proprio il London Stock Exchange quindi per il mercato azionario di Londra anche Deliveroo e Wise sono quotate a Londra ma molte compagnie tech UK scelgono come vi dicevo di andare appunto di quotarsi negli Stati Uniti dove c'è più liquidità in questo mercato comunque parla poi di Raspberry Pi sono ARM based computer quindi computer con processori ARM che sono molto popolari sono diventati molto popolari tra gli hobbysti per creare media server, console di retro gaming dashboard, progetti di robotica eccetera però più recentemente ci sono anche molte compagnie molte anche linee di produzione, industrie che hanno iniziato ad integrare i Raspberry Pi nei loro device nelle loro linee, nelle loro fabbriche infatti la compagnia riporta che il segmento industriale e embedded rappresenta il 72% delle sue vendite quindi ha largamente superato il settore degli hobbysti diciamo il settore consumer insomma Raspberry Pi ha venduto 60 milioni di unità da quando è stata fondata e soltanto nel 2023 ha generato 266 milioni di revenue quindi di fatturato e 66 milioni di profitto Raspberry Pi Limited che è la public company è sussidiaria della Raspberry Pi Foundation cioè questo rapporto tra la foundation e invece la parte commerciale che abbiamo visto anche in altre società come in OpenAI, come in Mozilla anche no? ecco la foundation dice che vuole rendere più facile per le persone imparare a scrivere codici attraverso un computer a basso costo e programmabile e rimane lo shareholder principale di Raspberry Pi cioè ne possiede la maggior parte delle azioni poi ci sono altri shareholders nella compagnia che includono ARM stessa e Sony Semiconductor Solutions Corporation che è una sussidiaria di Sony che crea sensori di immagini per gli smartphone e altri componenti e ARM aveva precedentemente detto che intendeva incrementare la sua quota di azioni di ARM proprio nel caso di una quotazione pubblica e di questa quotazione ne parla anche The Register e naturalmente parla un po' di storia di quello che è successo a Raspberry Pi che era stato rilasciato nel 2012 era un piccolo device della dimensione di una carta di credito che si poteva comprare per 30 sterline o 38 dollari ecco oggi invece il modello di punta con 8 giga di RAM Raspberry Pi 5 costa circa 100 dollari mentre comunque un Raspberry Pi 3 può essere comprato ancora per 44 dollari tutto questo posto che riusciate a trovarli comunque l'edizione finale di Raspberry Pi 1 model BPU è ancora in produzione e lo rimarrà fino almeno a gennaio 2030 l'Europa comunque rimane il mercato principale di Raspberry Pi che è il 38% delle unità totali vendute nel mondo poi Stati Uniti e Asia sono rispettivamente il 29% e il 26% degli acquisti e la reazione degli utenti degli affezionati clienti di Raspberry Pi è un po' mista cioè comunque ok adesso la foundation soprattutto prende in camera un po' di soldi e quindi i progetti di ricerca nuovi progetti insomma potrebbero avere nuova linfa però comunque questo sottolinea il fatto che anche questa roba è un business e quindi ci sarà da rispondere agli azionisti comunque ripetiamo che la fondazione Raspberry Pi Foundation rimane la principale azionista in Raspberry Pi ed il registro chiude con questa nota simpatica dice che per Raspberry Pi soddisfare sia i clienti che gli shareholder potrebbe diventare più complesso più difficile che riuscire a ottenere un Raspberry Pi 5 al lancio oh e finalmente torniamo sul bridge di Snowflake il mio bridge 2024 preferito allora i cercatori di sicurezza stanno riportando che un volume di dati significativo è stato rubato da centinaia di clienti di Snowflake attraverso la compromissione dei login credentials e sapete sono gli incidenti legati ai dati breach di Ticketmaster e Santander non vi sto a riassumere tutto quello che è successo con Snowflake perché ho fatto almeno due puntate su questa roba quindi basta che cercate Snowflake sui podcast insomma sui miei podcast trovate la fonte originale però comunque in molto breve molti clienti di Snowflake sono stati bucati le loro credenziali sono state bucate quindi gli attaccanti sono riusciti a entrare nel loro account Snowflake e fare exfiltration quindi rubarsi un bel po' di dati che stanno su Snowflake che è una piattaforma di data engineering quindi ci sono un sacco di dati proprio degli utenti sui loro server allora Mandiant che è l'azienda di security che sta facendo questa investigazione che sta ancora portando avanti questa investigazione ha detto che l'attività malevola su Snowflake è tracciabile a un attore quindi un attaccante motivato finanziariamente quindi che vuole ottenere soldi da questa roba qua che è identificato come UNC 5537 le compagnie hanno quindi Mandiant e Snowflake hanno detto che ci sono almeno 165 organizzazioni clienti di Snowflake che sono state compromesse da quando l'attività è stata scoperta in aprile e Mandiant continua a dire che non ci sono prove che suggeriscono che gli environment totali di Snowflake sono stati compromessi tra l'altro Mandiant continua a tranquillizzare sul fatto che Snowflake ha dei sistemi sicuri però insomma poi vediamo dettagli riguardo la compromissione degli account sono stati un po' scarsi e tra l'altro un report di terza parte che qua non è neanche citato per nome però abbiamo noi citato nei nostri podcastoni insomma è stato tirato giù cioè Snowflake ha minacciato quelli che avevano scritto questo report dicendo che tutto era tutto falso non corrispondeva al vero perché naturalmente metteva in luce dei problemi di security proprio interni a Snowflake e insomma dopo questa investigazione Mandiant dice che questo gruppo ancora non ben identificato ONC 5537 sta compromettendo sistematicamente i clienti di Snowflake utilizzando credenziali di login rubate attraverso dei malware info stealer quindi che rubano le credenziali che tra l'altro appartengono a attacchi del passato quindi anche di anni fa su sistemi non posseduti da Snowflake qualche informazione in più da deregister gli attaccanti dopo aver ottenuto l'accesso iniziale che pare essere avvenuto sulla user interface web based oppure command line che gira su Windows 7 2002 di Snowflake quindi insomma che sistemi abbastanza vecchiotti comunque i criminali hanno usato una utility che hanno nominato Raid Flake un nome che non traduco comunque è un nome che in inglese insomma non è simpaticissimo e Mandiant infatti ha deciso di rinominarlo Frostbite non so perché Frostbite ah perché Snowflake quindi Frostbite per l'altro Frostbite è anche il nome di un engine per videogiochi un engine 3D vabbè nota di colore alcune delle compromissioni iniziali quindi del punto di accesso poi a questo attacco sono avvenuti su sistemi di contractor quindi su device appartenenti a contractor che lavorano per varie organizzazioni e sui quali i laptop facevano attività sia di lavoro che personali e dicono i ricercatori di Mandiant questi device che spesso sono usati proprio per accedere a device di organizzazioni a sistemi di organizzazioni multiple presentano un rischio significativo perché se compromessi da un malware infostealer cioè quelle che vi ruba l'account ecco che da un singolo laptop si riesce poi ad avere accesso a più organizzazioni spesso con privilegi di alto livello di amministratore e tutte queste intrusioni nei sistemi di snowflake avevano tre cose in comune ci dice Mandiant la prima è che le vittime non usavano multifactor authenticator quindi MFA qui siamo sempre sul victim blaming comunque ma andiamo avanti dice le vittime non usano MFA seconda cosa gli attaccanti hanno usato delle credenziali valide quindi sono riusciti a rubare credenziali valide degli utenti quindi centinaia di queste credenziali tra l'altro rubate con quegli infostili di cui abbiamo parlato qui c'è anche una lista di nomi che non vi farò comunque si parla di credenziali rubate anche anni fa che poi non sono mai state rotate quindi non sono mai state aggiornate e infine queste organizzazioni non avevano abilitato delle network all'aulist quindi delle white list per consentire l'accesso soltanto da determinate reti da determinati domini da qualche network quindi insomma se siete utenti snowflake fatevi un pochino più furbi tra l'altro Mandiant vedete che ci elargisce questo pratico grafico da cui si scopre in realtà niente non era difficilissimo da capire cosa era successo abbiamo capito cioè c'è stato l'infostealer quindi qualcuno che ha rubato le credenziali sul personal device quindi su un laptop di un utente con queste credenziali l'attaccante denominato unc5537 è riuscito ad accedere a un'istanza di un utente snowflake attraverso questo accesso hanno fatto poi una ricognizione di tutti i database presenti in questo account e questo gli ha portati a fare data exfiltration era abbastanza lineare però hanno voluto fare questo grafichetto ma concluderei io con le parole di Kevin Beaumont che ormai è il nostro esperto di cyber security di riferimento Kevin Beaumont ha detto che i sistemi di snowflake sono responsabili di gran parte di quello che è successo e scrive infatti Beaumont dovrebbero a un livello proprio ingegneristico e di sicurezza di design ritornare indietro e fare una review di come funziona la loro autenticazione perché è ovvio che visto il grande numero di vittime e la scala di questo breach che lo status quo non sta funzionando l'autenticazione è sicura non dovrebbe essere opzionale e poi su Mastodon il segretore ha descritto il sistema di autenticazione di snowflake come terribile perché MFA non può essere abilitato a livello organizzativo ma sono gli utenti che devono abilitarlo manualmente uno per uno non ci sono policy per bloccare gli utenti che non hanno MFA inoltre usano un MFA duo quindi un MFA specifico e non quello della tua organizzazione quindi non puoi utilizzare quella tua organizzazione se non attraverso SAMOL e tutti gli utenti fanno login su un dominio di snowflake non ci sono dominio specifici per le organizzazioni e quindi basta trovare la credenziale appunto e si può fare login su snowflake ed ecco perché sono diventati obiettivo di questo attacco quindi va bene anche puntare il dito contro i clienti che non hanno seguito le best practice di security però snowflake ha delle grosse responsabilità proprio in come ha fatto il setup della sicurezza dei propri sistemi e della propria autenticazione vi lascio infine con due link tutti autoreferenziali perché qua si rimane tutto in ambiente sparfabric il primo link è un evento che stiamo organizzando sulla cyber security in particolare sulla security della software supply chain l'evento si chiama Talks on my machine anzi Talks on my machine è il nome di una serie di eventi che faremo online gratuiti basta registrarsi questo in particolare riguarda la software supply chain ma poi ce ne saranno altri su altre tematiche insomma e questo si svolgerà il 16 luglio 16 luglio 2024 quindi potete già segnarvelo è gratuito durerà la metà giornata ci sono 4 talk e poi una breve descrizione tra l'altro guardate un po' l'elenco degli speaker il primo il keynote di questo evento sarà tenuto da Michael Lieberman che è co-founder CTO di Cusari fa parte di OpenSSF di CNCF insomma è qualcuno che se ne intende molto bene di supply chain security parlerà di GUAC sarà molto interessante poi avremo Paolo Mainardi Andrea Panison e Giuseppe Arancio io sarò MC dell'evento e questi tre li avete già conosciuti se avete frequentato qualche evento sulla cyber security in Italia e sapete insomma anche la loro capacità di tenere un bel talk e biglietti bisogna fare i biglietti soltanto per consentirci di vedere insomma quante persone ci sono e poter poi inviare tutti gli aggiornamenti sull'evento quindi basta che ci date mail nome e cognome e noi vi mandiamo il link dove vedere la diretta su YouTube poi il link ai video quando poi li caricheremo e vi aggiorneremo eventualmente sugli altri eventi che facciamo quindi se vi fa piacere ecco Talks on my machine security supply chain software sarà il primo evento e il 16 luglio magari ci vediamo online su YouTube il secondo link che vi do è sul tech blog di Sparfabri che l'abbiamo pubblicato proprio qualche giorno fa si intitola open source day a report l'ha scritto Davide Bocconcompagni mio buon collega e amico romagnolo e ha scritto proprio un report sulla sua esperienza all'open source day ha scritto un po' quali sono stati i trend topic più evidenti un po' di esperienze di alcuni talk un po' di cose che ha notato insomma se vi fa piacere leggere un po' com'è stato l'open source day l'evento a Firenze di cui tra l'altro io sono stato speaker ecco così la butto lì c'è questo c'è questo blog post simpatico che vi consiglio quindi open source day a report poi ve lo lascio nei link di questo episodio del buongiornone ho venuto qui grazie per avermi seguito anche oggi domani non ci sarò non ci sarà buongiornone perché sarò a un evento a Bologna quindi se ci siete ci vediamo lì altrimenti niente e però tornerò la settimana prossima con puntate ancora più asciutte perché fa troppo caldo e non può durare tanto questa roba ciao